Benvenuto Enrico Farro, presidente dell'Associazione Nazionale Filmmaker. Enrico, benvenuti sui canali di Senza Filtro. Ciao Francesca. Enrico, ascolta, potresti spiegare a tutti noi la differenza tra un videomaker, un filmmaker, un cameraman, un telecine operatore? Insomma, per coloro che vogliono o volessero approcciare il percorso di questa professione. Allora, l'audiovisivo è un linguaggio, è come tale a tante persone che lo parlano e che lo scrivono con diversi strumenti e con diversi mezzi. A seconda dell'ambito in cui si parla, si scrive audiovisivo, questa unica forma di racconto, come lo è la scrittura, come lo sono altre forme, subisce varie connotazioni. E quindi, così come nella letteratura esiste la poesia e quindi esiste il poeta, oppure esiste il giornalista, esiste l'articolo di giornale, esiste la narrativa e quindi esiste lo scrittore di libri. Anche nell'audiovisivo, in base allo strumento di solito, ma anche più che allo strumento, in realtà, è più in base alla forma e al genere di racconto che si fa con il video, che noi abbiamo diversi professionisti che appunto apparentemente fanno lo stesso lavoro, ma che poi fondamentalmente producono racconti differenti con strumenti e con tecniche e con generi fondamentalmente diversi. Quindi abbiamo il filmmaker, in teoria, sono tutti, se ci fai caso, la grande rivoluzione nei personaggi, nelle figure che producono audiovisivo, che fanno video in questi tempi in cui viviamo, la grande rivoluzione sta nel fatto che sono tutte o quasi tutte parole che hanno qualcosa che contiene maker. Quindi rispetto al regista, che era uno che reggeva dal latino reggere, quindi che conduceva poi la troupe, invece il filmmaker rispetto a un regista cinematografico fondamentalmente è un film maker, cioè è una persona che fa film. Quindi fondamentalmente fare film vuol dire raccontare una storia con le immagini. E' il creatore, proprio l'arte di fare manualmente potremmo rappresentarlo così. Per darti un'idea di questo, Stanley Kubrick amava definirsi filmmaker, così come filmmaker viene definito anche Oliver Stone, e filmmaker in genere sono tutti quelli che hanno raccontato storie con dei film di cui si sentono comunque artigiani. Kubrick diceva, io vado a girare una pellicola soltanto per avere qualcosa da montare. Ed era uno a cui piaceva mettere le mani sulla macchina da presa e a cui piaceva mettere le mani in moviola e quindi andarsi a tagliare personalmente, per quanto poi avesse anche lui dei montatori molto abili, ma era uno che poi amava sporcarsi le mani. Quindi il filmmaker è una figura che si è diffusa tantissimo da quando la tecnologia ha un po' permesso a tante persone di fare video in maniera molto più agevole, molto meno complicata, molto meno soprattutto costosa. Considerate che una telecamera come quella che ho alle mie spalle qualche anno fa costava diversi stipendi, insomma, forse quelli di qualche anno di lavoro. Attualmente con poche migliaia d'euro si possono avere macchine cinematografiche abbastanza performanti, per non parlare dei telefoni che abbiamo in tasca e che sono un po' come la penna Bic per la scrittura, insomma. Quindi filmmaker diciamo che dovrebbe essere chi fa storie di fantasia, chi scrive una sceneggiatura e poi la mette in scena, la filma e tira fuori un racconto di, insomma, come quello che può essere un film come concetto, ma potrebbe fare anche dei videoclip o cose più, meno impegnative. Il videomaker di solito è chi mette al servizio la propria capacità di trasformare in immagini, la mette al servizio di qualcun altro che invece scrive qualcosa. Quindi sono sfumature di significato, di senso veramente che vogliamo più andare a cercare che non effettivamente poi ad avere. Però fondamentalmente la differenza tra un filmmaker e un videomaker, ad esempio, o quantomeno io mi trovo spesso a fare il filmmaker quando scrivo, giro, monto e confeziono un racconto e sono invece un videomaker o mi definisco videomaker quando invece qualcuno mi chiama, mi dà una storia da raccontare e io mi metto al servizio producendo, costruendo le immagini e mettendole in scena, eventualmente montandole. La grande differenza di queste figure professionali rispetto al passato è che un tempo erano tutti ruoli e categorie molto separate tra loro, quindi chi girava le immagini raramente era la stessa persona, raramente quasi mai, era la stessa persona che poi le andava a montare e c'erano diverse figure professionali anche di supporto alla fase di ripresa come il fonico di presa diretta, tutta una serie di figure che esistono tuttora e che sono fondamentali nella gestione e nella realizzazione di grandi progetti ma che poi si tende a semplificare nei progetti invece più semplici o quantomeno nei progetti in cui ad esempio in un videoclip non necessariamente è necessaria la presenza di un fonico di presa diretta perché lì c'è un playback per quanto poi si possono anche fare videoclip con il fonico sul set, insomma non c'è niente di strano. Il bello di questo lavoro secondo me è che si faccia e che si fa e che si continui a fare in squadra, come tutti i lavori credo, cioè i lavori, la creatività per come la vedo io è qualcosa che ha la sua massima espressione quando è qualcosa che non è autoreferenziale ma che anzi si completa nell'attività fatta con le altre persone di gestire, di gestare anche, di partorire un'idea che prende forma e che diventa un racconto, insomma. Quindi secondo me il valore vero è quando tanti filmmaker così come abbiamo cercato di fare noi con questa associazione tanti filmmaker si mettono insieme su un set dividendosi le proprie competenze e andando a realizzare qualcosa dando ciascuno il massimo nella propria specialità. Infatti nella nostra associazione ci chiamiamo l'associazione dei filmmaker ma poi fondamentalmente ci sono tantissime figure diverse da quella del filmmaker vero e proprio ci sono dei fonici, ci sono registi ci sono direttori della fotografia ci sono tantissimi giornalisti ci sono tantissime figure che fondamentalmente si vogliono appropriare di un linguaggio che oggi è alla portata di tutti fondamentalmente perché se abbiamo in tasca dei telefoni che fanno video in 4K probabilmente il video non è più soltanto uno spauracchio o qualcosa di difficile, di inaccessibile ma il video nel 2020 è ormai un linguaggio è un linguaggio tra l'altro è stato in questi tempi in cui non potevamo uscire di casa è stato l'unico, l'unica cosa che andava in giro di noi e che ci è servita un po' a comunicare con gli altri prima avevi detto che appunto le figure erano separate con distinte mansioni, distinte professionalità oggi invece filmmaker, videomaker tendono a essere un'unica figura ma anche montatore, no? un videomaker deve anche saper montare oggi quindi diciamo racchiuda secondo se crea immagini e fa un progetto improprio o cura un progetto altrui deve anche diciamo invadere un altro campo che è quello del montaggio video sì, io non la vedo come un'invasione di campo io penso che anche l'operatore anzi i migliori operatori secondo me sono quelli che filmano non in funzione del proprio senso estetico ma sono quelli che sanno costruire un racconto in funzione delle immagini che andranno montate insomma è soltanto una cioè tutti gli operatori credo i più bravi che ho conosciuto erano anche degli ottimi montatori non nel senso che poi si siedevano fisicamente al montaggio ma facevano quello che si definiva il montaggio in macchina quindi i migliori operatori sono quelli che girano le inquadrature secondo una successione logica temporale e sapendo, avendo ben chiaro in mente mentre girano i raccordi di montaggio è il modo in cui poi queste inquadrature andranno montate spesso conosco più operatori attenti alle regole del montaggio come lo scavalcamento di campo come tantissimi tutte le regole di raccordo insomma conosco più operatori attenti a questo che registi in alcuni casi spesso ci sono registi che si distraggono e si dimenticano quasi alcune cose poi fondamentali del linguaggio della grammatica e invece ci sono degli operatori molto attenti proprio a questo quindi fondamentalmente non è che il filmmaker invade il filmmaker fondamentalmente dovrebbe essere una filosofia di conoscenza come lo concepiamo noi poi negli anni questa cosa si sta evolvendo e sempre di più sta anche venendo meno il senso di tutte queste cioè io immagino che il futuro sarà quello il futuro che ci aspetta è quello in cui ci sarà sempre meno una distinzione tra il regista, l'operatore, il filmmaker, il videomaker fondamentalmente si andranno a fare dei lavori in cui si deve continuare a fare dei video e questi video andranno realizzati da Francesca, da Enrico o da XYZ non in base alla definizione che ci diamo che ci hanno dato ma in base alla nostra capacità e al modo in cui scriviamo un po' come dire Manzoni o Dante non si può oppure chi è un poeta il sommo poeta che definizione diamo all'uno che definizione diamo all'altro ci si può stare anni a parlare di questo insomma fondamentalmente fanno sono scrittori uno ha rivoluzionato la lingua italiana perché nell'ambito della questione della lingua secondo me Dante era un po' un filmmaker cioè l'approccio che dovrebbe avere il vero filmmaker è quello di Dante Alighieri quando si mette a scrivere il De Volgare Eloquenza in latino e quindi fa la rivoluzione della lingua italiana cioè crea il volgare scrivendolo però poi crea questo De Volgare Eloquenza in cui lo racconta agli intellettuali del suo tempo quindi secondo me è un po' quella la filosofia del filmmaker e come nasce il nostro gruppo in passato abbiamo detto che queste figure erano figure diverse e che tipo di studi e di percorso si faceva per poter arrivare a una di queste professionalità essere certificati e cosa si fa oggi nel 2020 e cosa si farà nel 2021 per poter intraprendere questo percorso professionale Allora guarda sul passato non mi piace troppo parlare del passato perché si tende sempre a stare a criticare il passato oppure a vedere il passato come qualcosa di nostale o a certo un tempo fondamentalmente ho sempre guardato al passato con l'occhio di chi vuole capire le cose quindi non mi piace preferisco risponderti con uno sguardo al presente e uno sguardo al futuro secondo me il passato era quello cioè il passato da cui dobbiamo prendere da cui dobbiamo imparare e c'è stato anche nell'audiovisivo questa forma di apprendimento è quello delle botteghe rinascimentali cioè come tutti i linguaggi e come tutte le le forme di comunicazione soprattutto quelle artistiche quindi quelle che presuppongono qualcosa di manuale qualcosa di creativo c'è bisogno di maestri che tramandino qualcosa che va oltre la tecnica e la tecnologia ma nel linguaggio cinematografico nel linguaggio audiovisivo c'è qualcosa che ha a che fare con l'alchimia della composizione delle immagini il sedicinoni la composizione aurea cioè sono tutte le regole di composizione che esistono dai tempi della pittura quindi è questo secondo me il bagaglio che dobbiamo fare nostro cioè sapere che componiamo all'interno di un sedicinoni e che insomma ci abbiamo la possibilità di comporre così come facevano i pittori come si è sempre fatto in pittura in scultura e in architettura quindi il modello a cui ci siamo sempre ispirati noi con la nostra associazione è quello della bottega rinascimentale e lo sguardo al presente è stato o comunque ti parlo del passato un po' più recente quello che abbiamo vissuto ormai 5, 6, 7 neanche ricordo quanti anni fa quando ci siamo incontrati come associazione filmmaker con Lazzaro Pappagallo e con Lazzaro abbiamo sempre condiviso Lazzaro è il segretario generale di stampa romana è il sindacato dei giornalisti a quel punto tu dirai che cosa c'entrano i giornalisti con i filmmaker con Lazzaro abbiamo capito che se vogliamo dare loro come sindacato noi come associazioni di categoria delle speranze alle persone che nel loro caso vengono rappresentate nel nostro caso le persone che si rivolgono a noi ci siamo resi conto che era necessario puntare sulla formazione e questo secondo me è il la chiave per per andare poi a guardare al futuro sempre più in avanti cioè non possiamo pensare di risolvere problematiche che si continuano ad affrontare da parte nostra quotidianamente se non siamo pronti a livello di cioè se non ci abbiamo le spalle abbastanza larghe con le competenze insomma quindi con Lazzaro ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a trattare poi l'audiovisivo come andrebbe trattato normalmente cioè con un linguaggio a tutti gli effetti e abbiamo cominciato ad offrire formazione a tutti i livelli quindi da sempre abbiamo aperto le porte a chiunque volesse imparare a realizzare video partendo poi dalla grammatica l'abbiamo sempre detto noi il cinema per noi è come la letteratura dell'audiovisivo e il cellulare è la penna Bic quindi abbiamo sempre cercato di conciliare la penna Bic con la letteratura e quella poi la scommessa che abbiamo portato avanti con loro e quindi il percorso che ognuno io poi credo che in generale ognuno abbia il suo percorso a tutti i ragazzi che ad esempio vengono da noi e ci dicono che vogliono imparare a fare cinema noi li indirizziamo verso percorsi classici come possono essere il centro sperimentale di cinematografia o le esperienze sui set per quanto riguarda poi la gavetta che ciascuno di noi ha fatto e deve fare per diventare bravi nella manualità delle cose perché è impensabile imparare tutto sui libri qualcosa si deve a me hanno insegnato ai tempi ruba con gli occhi ed è una una cosa che secondo me non non si impara nulla meglio che guardandolo e vedendolo fare con i propri occhi quindi quello sicuramente è fondamentale ed è un po' il modello rinascimentale di cui ti parlavo prima quindi quello se esiste dal rinascimento cioè seppure Michelangelo e Raffaello e Leonardo hanno imparato quello che sapevano guardandolo fare a qualcun altro evidentemente quello è qualcosa che va considerato poi va sicuramente inserito in un percorso tutelato perché poi molto spesso siamo stati tutti vittime di sti bieni lavora gratis o sfruttamenti di vario tipo di volontariato insomma andrebbe un attimo di pseudo gavetta chiamiamola così pseudo gavetta con la scusa della gavetta sarebbe incanalata in dei binari ma insomma noi ci lavoriamo e ci rottiamo per farlo e con noi tutti i sindacati e le associazioni indicate quindi su questo il messaggio invece che mi interessa dare è che bisogna studiare insomma e bisogna studiare con tutte le alla base sì poi i percorsi sono svariati ho fatto anche ho studiato anche l'attività e le cose che ho imparato all'università sia giurisprudenza che scienze umanistiche sono sono tutte fanno parte del mio bagaglio insomma sono dell'idea che non bisogna studiare soltanto la tecnologia cioè soffermarsi sullo studio della tecnologia prevede a bravi narratori di storie la possibilità di raccontarle quindi secondo me il narratore di storie per immagini deve studiare le materie umanistiche fondamentalmente guarda il mio approccio al video è quel traduzione che ecco cioè io mi sono a fare ho fatto un percorso classico personalmente liceo classico poi giurisprudenza per qualche anno mentre capivo chi ero realmente e poi sono approvato da scienze umanistiche e ho cercato poi di nel mio percorso e per costruirmi professionalmente di non buttare via nulla o quantomeno di tenere le cose più importanti di quello che avevo imparato e quindi viene da sé il fatto che ho preso il linguaggio il modo di trattare il linguaggio la versione di latino e greco è diventata il modello per manipolare le immagini che a quel punto sono diventate una sceneggiatura scritta che viene tradotta in delle immagini che è un po' quello che si fa nella versione di greco cioè si prendono dei vocaboli in una lingua e si cerca di interpretarli per raccontare una storia in un'altra lingua e questo poi è fondamentalmente il lavoro secondo me del videomaker o del filmmaker cioè si parte da una sceneggiatura e le parole si trasformano in immagini dall'analogico al 4K in realtà grazie agli ultimi top di gamma siamo arrivati all'8K come tipo di camera phone montata su uno smartphone ovviamente sono più diffusi il full HD e il 4K come la tecnologia ha impattato sopra la modalità di ripresa sopra la qualità della ripresa ma guarda io quando ero quando studiavo io mi ricordo che quando andavo quando imparavo quando andavo alle mie lezioni andavo dal mio maestro per imparare a fare i video avevamo un'unica telecamera come quella lì e dovevamo fare a turno per guardare dentro l'inquadratura per guardare l'inquadratura ok quindi secondo me la tecnologia cioè la possibilità che invece quando facciamo i corsi con l'associazione filmmaker o con stampa romana con genius con la cometa insomma perché poi ci leghiamo a tante realtà che trattano il linguaggio audiovisivo e e quando facciamo i corsi abbiamo uno strumento enorme che è la penna BIC di cui ti parlavo prima cioè quindi avere delle persone a cui tu spieghi i campi e i piani a cui spieghi come si costruisce un'inquadratura e avere la possibilità da parte loro di guardarla subito di farla mentre tornano a casa cioè non puoi capire la linea di apprendimento quanto è enorme lo smacco che hai da questo punto di vista quindi io non sono un fanatico del il celludurismo da tecnologia insomma c'è tre camere quattro camere sedici camere chiaramente uno smartphone che ha un grandangolo un'ottica pari a un 50 mm e un teleobiettivo praticamente è uno smartphone che ha tutti i piani focali che ti servono per raccontare una storia quindi io sono molto contento dei modelli che ad esempio ti danno la possibilità di lavorare già con con questo tre questi tre tipi di ottiche senza ricorrere a gli aggiuntivi grandangoli e altre ottiche aggiuntive che ti vanno ad appesantire la tasca fondamentalmente però poi lo smartphone è uno strumento così come la GoPro cioè io a volte non capisco perché tutti si indignano o ce l'hanno a morte con lo smartphone ma nessuno si arrabbia con la GoPro poi a parte non capirei nemmeno il motivo per cui bisognerebbe arrabbiarsi con la GoPro però sono strumenti è normale se io volessi girare un film interamente con la GoPro vabbè lo posso fare nessuno me lo vieta però non è quello il senso è un po' come dire ah sì hanno inventato l'evidenziatore giallo io scrivo un libro tutto con l'evidenziatore giallo cioè sì lo posso fare ma perché ogni cosa consiglia che quello che si per quello ti dico è importante la formazione perché capendo che sono tutti strumenti a quel punto io decido se girare con lo smartphone e girerò con lo smartphone probabilmente in situazioni in cui non voglio rompere l'empatia che ho con le persone che ho di fronte ok allora a quel punto so che se io caccio una telecamera come quella in un momento in cui ho una persona in difesa che ha subito un torto che si trova magari timida uno strumento come quelli rompe questo rapporto umano che io potrei creare invece con le persone ricordiamoci sempre quella frase meravigliosa che è amate la gente e fateglielo capire ok che io attribuisco ormai a Nico Piro perché insomma l'ho sentita dire a lui per la prima volta ma fondamentalmente il senso è quello noi soprattutto nel lavoro giornalistico quando facciamo quando raccontiamo storie e insomma lo facciamo perché c'è un'esigenza c'è qualcosa ci deve essere qualcosa di umano anche alla base non deve essere solo l'esigenza di un telegiornale o l'esigenza di qualcosa di economico che c'è dietro ok senza entrare poi in profondità nel discorso però fondamentalmente è questo amate la gente fateglielo capire vuol dire che se io ho uno smartphone e questo smartphone fa cose di qualità io utilizzerò lo strumento smartphone nella situazione in cui lo strumento smartphone è utile è comodo ha una ragione d'essere è funzionale al racconto io amo tantissimo i campi lunghi però fare un film solo con i campi lunghi non ha senso il campo lungo deve essere funzionale al racconto così come lo smartphone è funzionale al racconto l'uso della luce artificiale o l'uso della luce naturale è funzionale al racconto sono tutti elementi di un'inquadratura che fa parte di un racconto fatto di tante inquadrature messe in fila con il montaggio che è la tecnica che serve per cucire eccetera eccetera sono tutti elementi di un linguaggio è un po' come se chi scrive facesse delle battaglie personali contro le penne Bic o contro la Mont Blanc oppure contro alcuni in alcuni casi è un po' come se facciamo la battaglia contro le congiunzioni sì poi ci stanno esercizi di stile è tutto in qualsiasi battaglia si può fare catturare le immagini attraverso un device quindi uno smartphone con significa parlare di mobile storytelling mobile storytelling o mobile content creation che se riferito al giornalismo parliamo di Mojo ossia di mobile journalism dal tuo punto di vista dalla tua posizione dal tuo osservatorio che futuro vedi per il mobile journalism ma io io vedo il presente del mobile journalism e il futuro io credo che non esiste poi cioè fondamentalmente mobile journalism se l'ha inventato Nico una volta che mi ha chiamato dice facciamo un corso in cui insegnavo alle persone a fare i video con lo smartphone però fondamentalmente il mobile journalism è un è un canale per entrare in un linguaggio complesso cioè io io credo che il linguaggio audiovisivo è una cosa veramente complicata da gestire ma che non è soltanto la tecnica di ripresa e il posizionamento delle luci cioè c'è tutta una una parte che poi la gente fa finta che non esista che è l'emotività l'emozione il rapporto di empatia con le persone quando si crea tantissime cose che fanno parte del mestiere che sembra che cioè io sento a volte ah sì perché ormai tutti lo possono fare ma non è vero cioè non è cioè se chiunque ha con un cellulare può fare la stessa cosa di un giornalista che ti posso dire come un paio di Paolo di Gian Antonio che ha un'esperienza enorme una capacità una sensibilità un occhio attento al dettaglio cioè se io non non ci credo che chiunque arriva a quel livello la prima volta che prende in mano un telefono non è possibile cioè non è vero poi sì ci sono persone di talento che ho avuto personalmente come studenti persone che non avevano mai fatto un'inquadratura in vita loro e dopo la prima lezione erano in grado di creare un filmato per carità c'è veramente sono stati ricettivi questi tuoi allievi sono stati ricettivi ma sì ma sicuramente c'è una ricettività e c'è una capacità una potenza di una potenzialità però nel caso degli altri che sono di lunga gavetta ed esperienza professionale ovviamente conta proprio l'aver vissuto un periodo tecnologico prima degli smartphone e prima che sui smartphone venissero montate le camera phone minimo da 5 megapixel perché quando le camera phone arrivarono a quel tipo di qualità dell'immagine iniziamo tutti quanti ed ero orientativamente il 2009 a fare video e foto idonee anche per il racconto giornalistico sì io credo che sono andato un po' off topic il mobile giornalismo è una potenza da questo punto di vista cioè la possibilità con uno smartphone di raccontare storie video insomma qual è il futuro di questo mobile giornalismo il futuro è che sicuramente più andiamo avanti e più la tecnologia inventerà strumenti utili per raccontare storie col video cioè il video sarà sempre di più ma se pensi a Blade Runner cioè qualsiasi film di fantascienza ci ha sempre fatto vedere un futuro pieno di schermi ma insomma non ci vuole uno spirito particolarmente no cioè se la fantascienza se la sono sempre immaginata così evidentemente c'è qualcosa dietro al linguaggio audiovisivo che forse è l'immediatezza che forse è la la capacità da parte del video di essere subliminale cioè nel video noi abbiamo le immagini in generale le immagini parlano la parola la scrittura è un segno se tu quella lingua nella scrittura non la capisci e non sai interpretare il segno tu ti perdi il messaggio di quella parola scritta ma se quella parola cioè se quel messaggio invece di essere scritto a parole viene comunicato con un'immagine l'immagine ti arriva punto e basta cioè può essere scritta può essere stata girata da un telefono italiano arabo americano inglese norvegese se quell'immagine è stata costruita e contiene un messaggio quel messaggio che tu capisca o no il norvegese l'africano o il l'indi quella immagine lì ti arriva e ti entra dentro gli occhi ok che è diverso dalle parole scritte le parole scritte ti entrano dentro gli occhi ma se tu quei segni non sai decifrarli non ti arriva il messaggio le immagini ti arrivano ti entrano dentro gli occhi tu puoi essere ignorante nel senso che ignori come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo puoi ignorare il il senso profondo di quell'immagine ma quell'immagine comunque si è fatta portatrice di qualcosa che comunque è arrivato direttamente al tuo cervello tramite gli occhi quindi questa è la potenza tu riesci a girare ovviamente a catturare le immagini con con tutta la strumentazione a tua disposizione dalla videocamera alla GoPro allo smartphone quali accortezze prendi quando giri con uno strumento piuttosto che un altro? Guarda io cerco di utilizzare gli strumenti per le loro caratteristiche peculiari cioè nel senso per me sono come tanti pastelli colorati utilizzo il blu quando voglio disegnare il cielo utilizzo il giallo se voglio fare la sabbia e utilizzo il verde se voglio colorare l'erba del prato questo più o meno è come uso le telecamere cioè utilizzo il drone se voglio un campo lungo dall'alto e utilizzo la GoPro se voglio fare una ripresa in automobile in cui il conducente viene ripreso in faccia ed è l'unica telecamera che posso montare con una ventosa direttamente sul parabrezza quindi fondamentalmente conoscere il linguaggio ed avere gli strumenti per parlarlo ti dà la libertà di mettere lo strumento giusto per ogni situazione che puoi riprendere per me questo è la è la la libertà di tutti questi strumenti tecnologici non a caso insomma il mio zaino è è sempre in continua cioè ogni volta che sto partendo per una trasferta o semplicemente per andare a girare una cosa la prima cosa che faccio è metto tutto sul pavimento apro lo zaino e decido che cosa metterci dentro a quel punto è quella la modalità lo si decide anche in base al lavoro che si sa che si dovrà andare a fare no? si decide sempre in base a quello cioè io ogni volta che prendo una nuova produzione o capisco il tipo di lavoro apro lo zaino e metto nello zaino quello che mi serve pur avendo tanti poi la cosa all'inizio allora quando sei giovane vorresti avere tutto e utilizzare tutto quindi vorresti avere la red cinematografica e tutti i follow focus del mondo cioè tutti i tecnicismi all'inizio ti piacciono perché vuoi essere padrone di tutte le cose una volta che poi impari a maneggiare un po' tutto capisci che molte cose ti rallentano invece che velocizzarti oppure tante cose magari non ti serve magari ti conviene essere un po' più leggero e meno pesante ma più immediato quindi ad esempio se so di andare nel deserto nel deserto andrò a cercare strumenti che non devo andare ad aprire continuamente perché potrebbe entrare la sabbia all'interno del sensore e dovrei stare a pulire ogni 5 secondi insomma anzi la mia preoccupazione in quel caso sarà trovare delle coperture adeguate per tropicalizzare le attrezzature quindi sono strumenti che devi andare a scegliere di volta in volta guarda adesso ad esempio con con l'emergenza covid c'è stata proprio una anche lì un tempo eravamo abituati a fare le interviste con il gelato e con l'arino e adesso invece l'unico modo è utilizzare ad esempio per stare in sicurezza un'asta con un boom quindi l'importante ripeto è sapere le problematiche conoscere la conoscenza delle problematiche sia tecniche che di linguaggio perché poi molto spesso io ho lavorato anche con registi che magari si innamoravano dell'inquadratura senza però riflettere a fondo sul messaggio legato a quel tipo di linguaggio e senza riflettere soprattutto su quale strumento tecnologico utilizzare per ottenere quell'inquadratura ok quindi è un po' lì il gioco cioè sapere sempre che cosa che tipo di linguaggio voglio utilizzare voglio fare dei campi lunghi ok per fare i campi lunghi mi servono in grand'angoli oppure mi servono strumenti come i droni che mi consentono di allontanarmi pur stando in quello luogo lì viceversa voglio fare delle riprese in cui ci sono dei bei primi piani espressivi voglio andare a cogliere magari gli sguardi dei personaggi in quel caso lì devo andare a lavorare su dei teleobiettivi o lavorare sul rapporto che ho con l'attore più che sulla tecnologia insomma quindi a volte guarda veramente io poi quando ho studiato ai tempi in cui studiavo in realtà non si finisce dico ai tempi in cui studiavo perché facevo solo principalmente quello solo mai però non si finisce mai di studiare mi ricordo che a quei tempi c'era il dogma 95 di Lars von Trier no? e mi ero mi ero appassionato tantissimo a questa corrente di pensiero cioè il dogma era proprio la cercava di fare il discorso era fondamentalmente una provocazione cioè Lars von Trier e tutti gli aderenti al dogma dicevano ok facciamo il percorso inverso diamoci una serie di regole tassative sulla tecnologia e sulla modalità di ripresa e vediamo allora quali storie riusciamo a raccontare e in che modo le raccontiamo girando solo con queste telecamere solo con queste luci solo con questi accorgimenti tecnici e quello secondo me è stata anche quello mi ha fatto capire tante cose perché capisci che poi il linguaggio lo crei con tutti gli elementi non è la telecamera a fare il film così come non è il la sto cioè fondamentalmente è tutto un mix puoi scrivere la storia più bella ma se la giri male probabilmente non è cioè solo una bella storia scritta così come puoi girare le immagini più belle al mondo ma se non non le hai scritte bene o se non sai scriverle quelle immagini sono solo belle immagini quali sono le criticità che un operatore video può incontrare sul campo questa poi le criticità che tipo di criticità quelle tecniche quelle tecniche ma anche diciamo situazioni in cui l'abilità al problema solving diciamo quella che serve di più magari quando andate a fare le riprese per un programma televisivo o per un telegiornale a parte un discorso di tempo atmosferico tiranno quali sono le difficoltà che si possono incontrare sul campo beh lei grossomodo sì queste sono le guarda dal mio punto di vista la vera difficoltà è sempre fare i conti con se stessi cioè io anni fa ma credo che lo farò prima o poi cioè il mio sogno è sempre stato quello di fare un corso sullo zen e l'arte di fare riprese cioè in realtà l'approccio che sempre ho avuto sì perché ti ripeto poi tutti si preoccupano delle telecamere si preoccupano di tutte le le cose che poi fondamentalmente una volta le risolte le risolte cioè le problematiche tecniche piove sono tutte cose che capitano quello che fa la differenza è come reagisco io di fronte al fatto che piove e questa è una cosa che non si impara se non affrontandolo ok affrontandole queste cose quindi tutto quello che hai detto tu è vero cioè quando vai a fare le riprese a parte considera io ho sempre sostenuto e sostengo fermamente che ogni volta sono tre i film che tu fai uno è quello che scrivi uno è quello che giri e uno è quello che monti e soprattutto poi c'è il quarto film che è quello che guardano i tuoi spettatori che il più delle volte non è un quarto ma è un quinto sesto settimo cioè ognuno poi quel film lo fa proprio e diventa qualcosa che fa parte della storia degli altri al di là di questo quando tu lo scrivi e ognuno ci vede ciò che vuole tra le altre cose e ognuno ci vede sì perché lo può percepire in maniera diversa la stessa realtà la stessa storia può essere diciamo trasmessa nella stessa maniera però percepita in maniera diversa perché ogni singolo utente o telespettatore è diverso i pubblici sono diversi esattamente quindi già questo è secondo me è la è la vera sfida del di questo lavoro e quindi consigliare le cose le criticità per tornare al a quello che mi chiedevi la criticità è sempre stata secondo me il mio modo di reagire di fronte alle cose quindi per dirti io ero partito qualche anno fa avevamo organizzato una summer school all'Aquila cioè volevamo fare un progetto fichissimo insieme in collaborazione con la televisione dell'Aquila di raccontare cioè fare un corso immersivo una summer school come un summer camp insomma le persone venivano stavamo insieme una settimana e in una settimana facciamo anche il cineforum la sera durante il giorno facevamo qualche ora di lezione poi andavamo nel centro storico filmavamo raccontavamo intervistavamo insomma era proprio un momento di aggregazione e un momento di lavoro per fare un progetto insieme mentre eravamo in questa eravamo andati all'Aquila facciamo la prima giornata di questo summer school che avevamo organizzato insieme a Germana e Dorazio e a tutta una serie di Simone Albano insomma c'era tutta una serie di Lucia sempre Lucia Pappalardo insomma con noi avevamo fatto tutto il progetto per portarla avanti la sera la sera della prima notte ci colpisce il terremoto di Amatrice e lì questo è poi la le cose di cui ti parlavo prima come reagisci a questa cosa quindi da un lato c'era il mio progetto a cui avevo dedicato tanto tempo tra l'organizzazione la creazione coinvolgimento delle persone e quest'altra situazione che comunque riguardava andare a raccontare storie ok e poi abbiamo preso e siamo partiti e siamo andati tutti insieme poi tra l'altro sono venuti abbiamo quindi quello che poteva essere una disfatta perché poi le persone lì si sono anche un po' spaventate abbiamo detto a tutti ragazzi se volete sospendiamo e insomma restitiamo i soldi la riorganizziamo invece c'è stato da subito un entusiasmo da parte di tutti un entusiasmo insomma nessuno ha voluto smettere di fare quell'esperienza e l'esperienza si è trasformata in un ok andiamo a raccontare tutti questa questa cosa allora mi viene la pelle roca perché poi è stata sono stati momenti anche difficili e non ti nego che mentre ti rispondo mi rivengono in mente i momenti delle prime luci dell'alba perché poi arrivai sul posto intorno alle sette del mattino se non prima e insomma quando ti trovi in quelle situazioni li fai i conti anche con con qualcosa che poi è la difficoltà di cui ti parlavo prima cioè a quel punto non a me non importava la telecamera che avevo in mano o la macchina fotografica o lo smartphone cioè in quel momento tutto questo era era semplicemente che penne ho dentro lo zaino ma la mia preoccupazione semmai era quante batterie ho quanto posso girare quante schede di memoria ho e quindi andare a capire quanto tempo sarei dovuto rimanere lì e quanto tempo avevo per fare poi lo scarico del materiale mandare le immagini direttamente a Roma come ottimizzare le risorse esatto quindi le risorse secondo me ormai sono infinite tra una telecamera con una cassetta così grande cioè solo la cassetta pesa credo quanto tutta la telecamera che utilizzo adesso per fare video no quindi figura per me se adesso se preferivo portarmi sulle spalle 20 chili o chiaramente anche in termini di salute c'è un vantaggio ad utilizzare strumenti più leggeri ok non è solo la semplicità dell'utilizzo perché poi tanto l'utilizzo te lo complichi quello che vai pure se c'è una macchina tu pure ce l'hai leggera poi cercherai sempre di utilizzare l'ottica cinematografica i fuochi manuali e non automatici il diaframma manuale insomma lavori sempre con più difficoltà di quelle che potresti avere però tutto questo va in secondo piano perché nel momento in cui ti trovi in una terra distrutta da un terremoto devi fare i conti solo con il pianto che ti rompe in gola e relazionarti a persone che hanno perso tutto e che sono davanti ai tuoi occhi in lacrime e capire se è il caso che tu pianga o no cioè secondo me le difficoltà vere poi di questo lavoro sono quelle avere la forza di raccontare la partita di pallone di la stessa naturalezza con cui tu invece poi ti trovi a raccontare cose che ti danno pugni nello stesso dunque insomma ce n'è ce n'è c'è tanta roba Enrico ascolta tu come la vedi il fatto di diventare dei libri dice un giornalista che un tempo era abituato solamente a scrivere oggi magari abbraccia una reflex e fotografa con la stessa reflex può fare video poi li monta poi li dà alla redazione chi è un audiovisivo puro come te non pensi si senta un poco privato del diciamo del suo ruolo o di un ruolo di accompagnamento al giornalista ma guarda io io penso che poi siamo dobbiamo cioè fondamentalmente dobbiamo imparare a invecchiare cioè io io penso che il problema vero sia cioè i problemi veri siano due non invecchiare mai ed imparare a invecchiare cioè che vanno di pari basso cioè non invecchiare mai vuol dire essere sempre curiosi avere sempre quella spinta e la voglia di mettersi in gioco anche quando ci si sente un po' arrivati e tanto non ci si sente mai arrivati ormai cioè considera che in Italia un giovane regista è una persona di 50 anni che probabilmente a 50 anni riesce a fare il tuo primo film quindi l'aspettativa di arrivare insomma è sempre dietro l'angolo e quindi eppure quando fai quel primo film non ti sentirai mai arrivato credo comunque al di là di questo non bisogna mai invecchiare vuol dire imparare sempre avere quella voglia di scoprire nuove cose il cellulare montare con il cellulare e con Nico ci stiamo sentendo in questi giorni perché stavamo pensando di cominciare a sperimentare cose nuove che adesso non ti sto a svelare perché sono cose su cui c'è riservo però però fondamentalmente ci deve essere sempre curiosità e quando c'è curiosità non si invecchia mai questo lo diceva Seneca e insomma se lo diceva uno che è vissuto più di 2000 anni fa forse è qualcosa che se ancora rimane nel nostro immaginario forse è qualcosa di sensato al di là di questo bisogna anche imparare a invecchiare per imparare a invecchiare intendo che i ragazzi che nascono oggi ma anche quelli che sono nati dieci anni fa sono nati in un mondo in cui esisteva già internet nativi digitali super nativi digitali sì quindi io capisco che per me imparare l'HTML a vent'anni è stato sicuramente più semplice di quanto possa essere oggi imparare a utilizzare WordPress ok quindi io paradossalmente a vent'anni facevo una pagina in HTML cambiando il colore dal codice quindi agivo sui numeri del codice e cambiavo colore alle pagine oggi esiste WordPress che mi fa fare questa cosa con un tool e probabilmente faccio più fatica a 40 anni ad imparare una cosa che facevo in maniera molto più complicata perdona perdona l'incursione che carino perdona mi devo stiamo facendo un'intervista lei è Diana perdonami un attimo arrivo subito ok mi chiudi la porta scusate ma allora e e quindi è quello vedi lei c'ha un tablet e mi faceva vedere un video con un tablet che sa utilizzare senza saper leggere è nativa digitale è nativa digitale ha una persona così cioè ha una persona che oggi ha quattro anni sa utilizzare un tablet e lei gioca a dei giochi in cui c'è scritto vuoi continuare sì no e lei sa il pulsante che deve premere senza sapere qual è sì e quale no perché perché sono bambini sanno già leggere il linguaggio delle immagini che noi andiamo a costruire con i criteri affinché stiano leggibili pure se non si capisce la lingua quindi capito capisco che è difficile per uno che ha fatto la notte nei rotocalchi ad aspettare l'uscita del quotidiano cioè io adoro io ho degli amici che facciano i fotografi per la stampa uno di questi è Danilo Malatesta lui è un fotografo scatta col banco ottico cioè lui fa le fotografie con le lastre di vetro cioè lui ha una scatola di legno toglie il tappo dalla scatola e la luce si imprime in un liquido che intrappola l'immagine cioè una roba magica è alchimia cioè è roba che al di là di quello che io faccio schiacciando un pulsante su una macchina fotografica digitale che crea numerini cioè io creo numerini che salvo in una scheda di plastica lui salva le immagini su una lastra di vetro cioè è un mondo incredibile ora che gli dico io cioè lui sono io che ammiro lui cioè è sempre lì il discorso io ammiro tantissimo i grandi giornalisti che con una pagina con un articolo di qualche centinaio di parole riescono a darti l'idea di quello che succede o a raccontarti delle storie e quelle sono sono sicuramente figure professionali che esistono e che non andrebbero snobbate o che non andrebbero assolutamente messe in secondo piano rispetto al nativo digitale che con un cellulare ti racconta una storia però c'è anche da dire che ci sono linguaggi che si evolvono e che in alcuni periodi sono più richiesti di altri e quindi che dire da un lato bisogna aggiornarsi e dall'altro bisogna capire fin dove vogliamo spingerci sicuramente io che ti devo dire non non penso che il giornalista che voglia raccontare delle storie e che le racconti da solo col proprio cellulare tolga il lavoro a me anche perché io quando lavoro con un giornalista è un lavoro che facciamo insieme e che c'è sempre la possibilità di fare insieme anche se lui ha un cellulare ok quindi sicuramente ci sono meno lavori che faremo insieme per necessità di cose perché magari ci sono più storie che lui lui ipotetico si andrà a raccontare per conto suo però questo mi restituisce del tempo libero che io posso impiegare eventualmente a scrivere anch'io o semplicemente a specializzarmi in altre cose cioè non la vedo come poi vabbè qui c'è un discorso sindacale da fare insomma sono discorsi profondi che non possiamo esaurire con questi fatterelli che ti racconto io insomma sono discorsi che vanno ragionati a livello filosofico letterario e poi politico oltre che contrattuale politico filosofico letterario che poi è l'attuazione di tutto questo però capito insomma io sarei per guarda il problema è rientrare in un mondo migliore che è sempre difficile da cioè è sempre bello immaginarsi un mondo migliore ma poi bisogna fare i conti con con quello che abbiamo insomma e non è mai il migliore dei mondi possibili probabilmente con quale frase immagine suggestione ci saluti chiudiamo questa chiacchierata per senza filtro questa è bella mai confondere l'azione con il movimento mai confondere l'azione con il movimento perché differenza perché guarda io l'amo questa frase perché c'è una frase che si dice al cinema anzi c'è proprio un rituale c'è il rituale al cinema lo facciamo tutti anche quando facciamo il filmetto a casa o per la televisione e rituale silenzio motore gira audio partito c'è una uno uno prima e azione e questa è l'azione cioè l'azione è quello che avviene dopo cioè l'azione al cinema l'azione può essere anche semplicemente questa è un'azione questo è un movimento e al cinema tra l'altro si utilizza azione e movimento per differenziare il movimento della macchina con l'azione dell'attore ok quindi è una frase che mi piace perché contiene un po' tutto quello che è la vita la vita la vita ed è un po' la frase che che ho che ho ripetuto un po' dentro di me come un mantra durante i giorni in cui non sono andato in giro a fare il mio lavoro perché ero costretto in casa come tutti noi insomma e quindi lì mi sono chiesto sì però questo è è movimento l'azione è quello che faccio pensando e insomma spero di aver pensato cose buone in questi mesi e spero che quando mi ritroverò in movimento l'azione che ho fatto stando chiuso in casa sia il supporto che mi sostiene e che fa vedere i miei passi lungo il cammino grazie Enrico Farro presidente dell'associazione nazionale Killmaker di essere stato qui con noi sui canali di Senza Filtro Senza Filtro Senza Filtro Senza Filtro Grazie Francesca Grazie Grazie